In compagnia dell'amministratore delegato dell'FC Suttirol di Tumar Pfeiffer è un'occasione importante all'inaugurazione ufficiale del nuovo centro sportivo dell'FC Suttirol, un bel traguardo ma un progetto che parte da lontano, dal 2012, ci spieghi come e perché? Sì, noi da tanti anni che avevamo cercato una sede, diciamo una casa, abbiamo già, quando sono arrivato al Suttirol nel 2006 eravamo sempre in giro per la provincia per cercare campi di allenamento poi è iniziato tutto con l'Aives, dovevamo venire a l'Aives a fare la cittadella dello sport, poi Caldaro poi anche altri comuni. Nel 2012 abbiamo individuato a piano la zona sportiva Masoronco come nuova sede dell'FC Suttirol e da lì abbiamo iniziato la progettazione. Sono passati diversi anni anche perché abbiamo sviluppato questo progetto in diversi lotti e oggi abbiamo raggiunto questo traguardo storico, abbiamo finito finalmente l'FC Senter. Fiora Locchiello è ovviamente la nuova sede che non è solo una sede amministrativa ma è anche una sede tecnica sportiva per la prima squadra ma anche per il settore giovanile. Come avete concepito questa nuova sede? Beh, in fondo la sede ha tre piani. Il piano sotto è dedicato a lavanderia, magazzini e il settore giovanile. Il piano intermedio è esclusivamente dedicato alla prima squadra con all'interno un centro medico e tutti i servizi che servono alla squadra, alla nostra prima squadra. E il piano sopra abbiamo gli uffici con sale e riunioni dove tutti i collaboratori nostri potranno in futuro lavorare. Il bello è che siamo tutti qua, è tutto compatto, finalmente ci vediamo tutti quanti ogni giorno, basta fare un piano e siamo in contatto con gli altri. La società è cresciuta molto, per cui ci sono anche tanti collaboratori, per cui è fondamentale che siamo compatti, siamo insieme e tutti in una casa. Una bella cerimonia di inaugurazione con tanta, tantissima gente, tante autorità locali ma anche nazionali. Segno insomma che si è capito lo sforzo profuso dell'FC Sud Tirol per dotarsi di una struttura funzionale per una squadra professionistica. Sì, credo che l'FC Sud Tirol negli ultimi anni ha fatto passi da gigante anche a livello di immagine, a livello di crescita su tutti i fronti e fa piacere vedere tutta sta gente, tutte le autorità all'inaugurazione anche perché è un momento storico per noi, è una pietra importante che abbiamo posato nella storia dell'FC Sud Tirol però non ci fermiamo qua, sarà l'inizio di un lungo percorso e io sono convinto che l'FC Sud Tirol ha dei margini e un potenziale incredibile in futuro. A tal proposito è stato da pochi giorni indetto il bando di gara per la ristrutturazione dello Stadio Druso che è un nuovo progetto del Sud Tirol, che è un nuovo obiettivo del Sud Tirol. Sì, infatti mi riferivo proprio a questo, non ci fermiamo qua, è partito il bando, in autunno speriamo che riusciamo a partire con i lavori al Druso, vuol dire che a livello di infrastrutture l'FC Sud Tirol sarà all'avanguardia, sarà una delle società professionistiche in Italia più attrezzate e questa è la base per fare bene in futuro. Senza le infrastrutture è difficile che una società a lunga possa sopravvivere.